Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video o meglio in questa nuovissima challenge se dalla regia per favore mi mandano l'intro visto che non l'hanno mandata subito, non l'hanno fatto in tempo riuscite a mandare l'intro ora? si, stanno aspettando ok raga eccoci qua finalmente in cosa consiste questa challenge? ve lo spiego in parole semplici semplici proverò a farmare quante più parti meccaniche efficienti quindi le parti meccaniche che servono per craftare appunto le armi a 5 stelle proverò a farmarne il più possibile è più emozionante di quella volta che avevo dimenticato come ci si siede visto che comunque è uno dei materiali più rari del gioco possiamo dire visto che comunque anche nelle zone al centro se spacchi le macchine non droppi solo parti meccaniche efficienti ma droppi anche parti meccaniche lucide quindi la probabilità è un po' diminuita ma detto questo io la prendo come un gioco e la voglio trasformare in una challenge per voi voglio farvi inoltre sapere che se questo video arriva almeno a 300 like raga se questo video riesce ad arrivare a 300 like ripropongo questa challenge con un ospite molto molto speciale un ospite che credo voi tutti conosciate bene ovvero mio caro amico REC proveremo a farmare quante più parti meccaniche efficienti possibili in una partita 1v1 chi farma più parti meccaniche efficienti vince 1v1 semplicissimo lo prendo veramente come un gioco come una challenge voglio vedere voi cosa ne pensate se vi piace l'idea e colgo l'occasione anche per farci un video carino insomma e mostrarlo a tutti voi dunque raga le regole che andrò a utilizzare sono semplicissime allo scadere dei 10 minuti parto a luttare qua ho già seccato uno smasher purtroppo raga cioè mi stava pushando mi stava facendo scalamuro pavimento momenti niente gli ho sparato due colpi e mi ha droppato delle parti meccaniche efficienti fatemela passare come buona comunque dicevo tra 5 secondi parto a luttare vediamo in 10 minuti quante ne lutto via ok io mi concentrerei più sulle macchine le cose che trovo per strada giusto per non perdere tempo dentro le case comunque qua in basso a sinistra potete tenere conto insieme a me raga di quante parti meccaniche efficienti ho al momento quante ne ho a mezza partita quante ne ho alla fine io ora mi faccio da parte e vediamo se velocizzando la clip viene fuori qualcosa di carino 3 2 1 via 3 5 5 6 9 10 10 12 12 13 13 13 13 13 14 15 15 21 20 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo totalizzato 31 parti meccaniche efficienti, 30 parti meccaniche efficienti in 5 minuti, non è male. 30 è il costo base di un'arma comunque, in 5 minuti siamo riusciti a farcene 30. Avrei potuto fare di meglio in 5 minuti eh, vediamo se nei prossimi magari ne riesco a fare molto di più. Comunque non è male eh, mi aspettavo molto molto meno sinceramente. Vabbè, velocizziamo di nuovo raga. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Raga il tempo è quasi scaduto, anzi è scaduto, niente la cassa non riesco a aprire e non riesco a barare. Allora, andiamo subito a vedere quante parti meccaniche efficienti abbiamo totalizzato in 10 minuti, solamente in 10 minuti raga. Lo vedremo subito insieme, allora, 44 parti meccaniche efficienti e 33 lucide, ricordiamo che abbiamo droppato anche 33 parti lucide. Quindi, un'arma in 10 minuti in 10 minuti in 10 minuti, quindi immaginate che non sono neanche tanto difficili da farmare, in quanto si richiedono tempo, solamente quello. Richiedono effettivamente del tempo e una mappa appunto in città e soprattutto essere arrivati a Montespago, se no farsi lanciare appunto da qualcuno. Quindi raga, per il video di oggi io direi che è tutto, se vi è piaciuta questa idea fatemela sapere nei commenti e vi ricordo che se questo video riesce ad arrivare a 300 like farò la stessa identica challenge con il mio amico Reclaus. Se vedremo chi dei due ne riuscirà a farmare di più in appunto altri 10 minuti di tempo. Raga, sta a voi, fatemi sapere nei commenti e soprattutto spolliciate. Ci vediamo nella live di domani, mi raccomando, non mancate. Ciao!